Qual è la coscienza? Qual è la storia del pensiero in tutte le culture, ad est e ovest? Crede che oggi noi siamo più vicini che in passato ad una risposta a questa domanda? Siamo più vicini in un modo che è un po' paradossale, perché abbiamo creduto da tanto tempo, che vuol dire nel secolo che ha preceduto, che si poteva buttare luce sul problema della coscienza avvicinandolo con il problema della biologia, della nascita di un'organizzazione, per esempio, temporale nel cervello. E progressivamente si è visto che anche se i progressi in questa linea sono veramente straordinari, non riusciscono a chiarire qualunque cosa veramente importante riguardando la coscienza. chiariscano dei problemi che si dicono facili, come si può far passare una persona da uno stato di coscienza sveglia, uno stato di oppure non coscienza, oppure coscienza completamente elementare. Ma il problema dell'origine fisica della coscienza sembra più oscuro oggi di mai. E perché sembra più oscuro? Perché precisamente perché si sa di più in più di cose sui problemi detti facili, allora si vede a che punto quel problema dell'origine della coscienza è veramente una cosa che è talmente diversa dall'approccio scientifico che non c'è veramente una, non si vede una possibilità di fare progressi veramente decisivi in questo campo. Infatti, proprio riguardo alla scienza, ecco, ci interroghiamo sul ruolo che può avere nel rispondere a domande che sono implicate nella ricerca sulla coscienza, come potrebbe essere, ecco, io sono il mio cervello? Oppure c'è vita dopo la morte? O anche la vita ha un senso? Ecco, quindi secondo lei nell'affrontare queste domande, ecco, quale può essere il ruolo della scienza? C'è forse posto per altre discipline, l'indagine su questo ambito? Certo, per esempio sul problema che hai posto, io sono la mia coscienza o no? è un problema che veramente è posto o sollevato, non so come si chiama, in un modo che è veramente per principio completamente al di fuori di quello che può fare la scienza. Quando dico io, io è il tipo della parola che la scienza non può accettare. La scienza ha come principio di escludere tutte le caratteristiche di situazione, come io, adesso, ora, qui, e di concentrarsi sull'invariante di queste situazioni, vuol dire sulle cose che non cambiano quando si cambia la sua propria identità, la sua propria posizione nello spazio e il suo tempo. E dunque, quando si pone queste questioni, queste domande, si è già al di fuori delle possibilità di principio della scienza che ha come base l'oggettività. Quindi, diciamo, quale disciplina potrebbe aiutarci ad approcciare, a rispondere a questo tipo di questioni, secondo lei? Allora, ci sono molte risposte, perché questa è una domanda molto delicata, ma ci sono molte risposte. La prima è, credo, di capire la natura un po' ristretta della ricerca scientifica e di provare a amplificarla. Vuol dire non abbandonare completamente l'impresa scientifica, ma provare a allargare un po' i suoi principi metodologici. Per esempio, si può dire, ok, la scienza normalmente, come ho detto, ha come principio di buttare via completamente le caratteristiche situate e provare soltanto a vedere quel che non cambia, ma può anche provare a vedere se non ci sono cose che si può comunicare e che si può dire quasi identiche da una situazione all'altra, dalla vista situata di una persona alla vista situata di un'altra persona. Non è qualcosa che si vede di fuori e che le posizioni convergono verso di questo, ma è il contesto stesso delle esperienze in prima persona che hanno delle cose che non sono troppo variabili e che si può isolare con un metodo speciale di indagine di intersoggettività invece di un'indagine di oggettività. E questo credo che è esattamente quello che ha fatto Francisco Varela quando ha costrutto l'idea della sua neurofenomenologia. L'idea era prima di isolare qualche parte della nostra esperienza situata in prima persona che è veramente invariabile e che si può comunicare, su cui ci si può mettere d'accordo e fare dopo delle connessioni costrittive con i contesti veramente oggettivi, per esempio della scienza neurofisiologica. Dunque, questo è un metodo di allargamento del concetto di scienza e di allargamento del concetto di natura. La natura non è più quello che è dato fuori a tutti gli sguardi, ma la natura è anche l'insieme di quello che è quasi costante negli sguardi stessi. Questo è un primo metodo, quello che conosco forse un po' più degli altri. Avevo una domanda su questo. Se capisco, il suo principale campo di interesse è questa amplificazione del campo scientifico includendo dei dati in prima persona per trovare un parallelismo, una visione stereoscopica, come diceva Varela. Ma all'interno di questo, forse il suo interesse specifico non va tanto nella relazione tra la coscienza e la materia, quanto nella natura stessa della coscienza. E per farle questa domanda sulla natura stessa della coscienza, cito Schrödinger, che so che è caro, quando dice che noi non possiamo descrivere la mente perché la mente è l'atto di descrivere. Sì, qualcosa così. L'ha detto un po' altrimenti, l'ha detto nel suo Mind and Matter, l'ha detto dicendo che, così, l'ego non si può vedere in nessuna parte perché in nessuna parte della nostra rappresentazione del mondo perché è lui stesso la rappresentazione del mondo. Così l'ha detto. È una bella formula. Forse si può discutere della validità della parola ego, ma questo è una rimarchia molto fondamentale sul limite ultimo del nostro sapere sulla coscienza perché la coscienza non è precisamente una cosa che si può mettere in qualche modo e in qualche posto nella nostra rappresentazione del mondo. è la rappresentazione stessa oppure il presupposto stesso della rappresentazione, se si vuole. Questa c'è una piccola discussione su quel punto. Infatti una delle domande che vogliamo porle, quindi adesso me ne dà occasione, è che proprio fare ricerca sulla coscienza, interrogarsi sulla coscienza, è se stessa un'attività cosciente. Sì. Ecco, quale, diciamo, quale primo riflesso ha questo fatto sulla ricerca stessa riguardo al significato della coscienza o all'essere cosciente? Questo è una cosa molto cruciale perché vuol dire che questa ricerca è una ricerca che come, per esempio, Hofstadter diceva in un libro suo che si chiama The Mind's Eye è una ricerca che si svolge nell'occhio del ciclone. Vuol dire che ogni volta che si vuole andare via del posto stesso della domanda si vede che non si vede più l'oggetto della domanda. Allora si deve tornare al posto della domanda non per vedere l'oggetto, ma almeno per non esserci escluso. E dunque è un problema metodologico molto delicato che non può essere risolto con una semplice formula o con una risposta finale ma può soltanto essere abitato in un certo modo. Dunque anche la scienza, la grande scienza estesa di Varela non ha mai detto che darebbe la risposta ultima alla natura della coscienza ma almeno che questo tipo di scienza non si escludeva se stessa del posto dove tutto il progetto di coscienza partiva. dunque almeno non è come esiliata dal suo target dei suoi obiettivi. Ecco, forse in qualche modo anche la ricerca di Varela si può, diciamo, riassumere sotto il termine di interdisciplinare. Non so se lei mi consente questa assimilazione. Ecco, ma oggi sicuramente l'interdisciplinarietà è un trend della ricerca soprattutto negli studi cognitivi. Ci sono diverse discipline che si confrontano e si contendono a questo oggetto. Ecco, la mia domanda vorrebbe cercare di trovare con lei diciamo, quale può essere un terreno comune sul quale queste discipline possono parlarsi ad esempio come la filosofia può parlare con la scienza e magari anche con l'esperienza in prima persona della meditazione e poi se c'è anche una prospettiva se lei riesce a vedere una prospettiva dalla quale tirare le somme di questo dialogo interdisciplinare. Sì, è vero che ci sono adesso molti tentativi interdisciplinari. La scienza cognitiva è una scienza dove l'interdisciplina è necessaria ma almeno l'interdisciplina si svolge sul terreno delle scienze oggettive. Conosco bene il problema perché io appartengo a un laboratorio di scienze cognitive e noi abbiamo matematici, filosofi, biologici e poi gente che è specialista di fisica, di complessità e tutto quello. Ok, ma sono tutti specialisti di una scienza di oggetti. Anche la matematica è una scienza di oggetti di oggetti costrutti, di oggetti di dimostrazione ma sempre di oggetti. Invece qui abbiamo un gran problema un problema anche più difficile da risolvere e il problema è che qui si deve coinvolgere delle discipline che non hanno neanche il terreno comune per parlarsi in quanto discipline. Hanno il terreno comune di parlarsi perché sono tutte intraprese umane tutte che hanno la sorgente nelle grandi domande dell'umanità sul suo posto nel mondo sul senso non certo sul senso ma almeno su come dirigersi nella vita come dirigersi anche per semplicemente sopravvivere anche quando è veramente una scienza molto ordinaria. Ma eccetto questo terreno comune che è molto fondamentale queste discipline come per esempio le discipline contemplative non hanno un terreno comune di discorso o di oggetto o di non oggetto per quanto riguarda le scienze contemplative. Allora si vede si vede negli incontri che qualche volta è un incontro del terzo tipo e che la gente si guarda così e dopo si può la gente si può capire dopo ma soltanto quando tutti tornano a quella base comune che quando gli scienziati dimenticano che sono scienziati e ricordano che hanno problemi che tutti hanno come esseri umani. Questo è un aspetto che mi interessa molto le discipline contemplative possono aiutare a stabilizzare forse l'esperienza a dargli un ordine un rigore che normalmente si fa fatica a ottenere però di converso chiedono molto allo sperimentatore cioè di sopportare un senso di disappunto di non confortevolezza anche di paura per dover lasciare le capacità discriminative ordinarie eccetera ecco come si può fronteggiare questo problema perché penso sia l'ostacolo più grande per costruire una comunità di ricercatori che si riconoscano su questo. sì è vero io non ho una risposta molto definitiva su queste cose perché sto cercando esattamente come noi tutti ma almeno ho l'esperienza delle resistenze che noi incontriamo e la prima resistenza è per che ragione che ragione abbiamo di fermarci di fare qualcosa di agire nel mondo e di ritirarci un'ora al giorno diciamo soltanto per lo scopo della stabilizzazione della mente dunque nella nostra società e nella nostra condizione quasi esistenziale di uomini post scientifici diciamo che abbiamo una visione del mondo che è interamente condizionata dalla scienza oggettiva sembra che non abbiamo ragioni discursive di farlo possiamo avere una ragione quando si sente che c'è qualcosa che non funziona più il senso della disorientazione del fatto che continuare così come abbiamo sempre fatto con andare sempre più avanti agire sempre di più fare sempre di più in un minuto in un secondo si vede che c'è qualcosa che non funziona che ci porta in un posto dove non sappiamo che non sappiamo identificare e che il nostro problema di vita non è veramente neanche toccato da quel modo e allora allora siamo pronti a provare qualunque cosa per trovare per trovare un'altra via e in questo a questo momento di disarray siamo pronti a fare qualcosa che normalmente sembra assurdo devo dire che il mio metodo il brutto metodo il metodo che si usa quando non si sa fare qualunque altra cosa invece ci sono altre persone che sono veri maestri e tutto che hanno trovato una via più positiva la mia via è la via un po' negativa di chi deve trovare qualcos'altro perché vede che la sua intrapresa ha dei buchi enormi nel suo senso questo però ci porta a delle questioni molto dense sul proprio sul rapporto tra la coscienza e gli studi sulla coscienza e il significato nel senso che mi sembra di capire dalle sue parole c'è il luogo in cui si gioca la questione dei significati è la coscienza se la nostra vita ha un significato ha un significato a partire da lì o comunque è molto connessa al fatto che siamo accesi in che modo si può indagare questo rapporto tra coscienza e significato una prima cosa forse devo dire è quello che non si deve fare vuol dire che non si deve credere per esempio che facendo un'inadagine in prima persona per esempio meditando e cercando di stabilizzare la sua propria esperienza si va a trovare il senso come come una formula come una una frase che si può dire dopo quando la si può dire si può dirla agli altri eccolo il senso l'ho trovato è quello invece ogni volta che si crede di aver catturato quello vuol dire che si è più lontani di mai da questo senso allora ci si può scoraggiare oppure ok si scoraggia va bene dopo si continua come si è sempre vissuto e agito e ancora una volta si vede che non funziona e si torna ancora all'esperienza e cercando ancora la risposta e si vede che la risposta non c'è davanti a noi non c'è una formula ma si sente che infatti a qualche momento c'è uno stato dove la domanda non si pone più neanche allora ci si dice forse è quella la risposta non la vedo non posso dirla ma io sono adesso forse per qualche secondo in uno stato dove la domanda non si pone più e questo è molto vicino alla bella formula che mi piace di Wittgenstein che dice la risposta al problema della vita è uno stato dove il problema ha sparito soltanto sparito non è che ha avuto una risposta è finito non si vede più non c'è più luogo di sollevare il problema ha mai pensato pensa mai che il suo lavoro potrebbe cambiare quindi quello che lei scrive che pensa le sue conclusioni potrebbero cambiare il modo di vivere e di pensarsi di milioni di persone questo non lo so ma è vero che per me hanno avuto questo effetto non è non è diciamo l'unico determinante dei miei cambi di orientazione un po' esistenziale ma è una componente importante quando si vede i limiti della scienza oggettiva si cerca anche un'altra via perché la scienza oggettiva come la vedevo quando ero molto giovane era la la chiave di tutti i segreti che ci poniamo sulla realtà e come noi siamo inclusi nella realtà dunque è anche una chiave per i nostri segreti quando vediamo i limiti della scienza per esempio studiando come l'ho fatto molti anni i problemi della meccanica quantistica allora vediamo che tutti i segreti non sono contenuti nelle risposte possibili della scienza e anche si capisce la costituzione stessa della scienza che per principio non è adatta a dare un certo tipo di questione che ci riguardano particolarmente dunque dunque in negativo ancora una volta soltanto in negativo questi studi possono cambiare molto nell'atteggiamento della vita della sua personale o di tutti diciamo di quelli che potrebbero fruire dei suoi studi della mia personale certo e da qualche studenti veramente quando vedo qualche dei miei studenti si vede che queste idee hanno fatto qualcosa hanno buttato una piccola luce sulle loro riflessioni dunque vuol dire che c'è un piccolo effetto ma io non credo che da sé una riflessione filosofica anche se è veramente chiara sul limite del pensiero scientifico oggettivante può cambiare tutto è soltanto una contribuzione a una grande intrapresa che noi da cui noi siamo una parte dunque se possiamo fare qualcosa già così è una piccola tocca e poi altri per esempio dopo una persona come Brother David oppure come Richard Baker sono qua per raccogliere la gente che è stata convinta che tutta la verità che cerca non si può trovare soltanto con l'indagine scientifica dunque è una cosa è un gioco collettivo diciamo come come quello che si gioca adesso adesso le pongo una domanda stiamo cercando di porre un po' a tutti i speaker che riguarda proprio l'esperienza in prima persona ecco quindi le chiederei se ci vuole come dire mettere a parte condividere con noi quella che secondo lei è stata l'esperienza diciamo il momento più importante per lei fino ad oggi ci sono tanti momenti importanti credo prima devo dire che ci sono momenti importanti che percorrono la vita intera ogni momento della vita può essere uno di questi dove tutto cambia in un istante nella percezione del mondo dunque ne ho avuti tanti esperienze di unità con una persona esperienze di contemplazione di un paesaggio completamente aperto e selvaggio vicino a una chiesa greca oppure certo se ne racconti uno magari uno dei momenti uno dei momenti importanti almeno posso raccontarlo quello perché è una cosa che è bene localizzata con una persona veramente straordinaria era l'incontro con il Dalai Lama a Dharamsala questo incontro era una cosa che sembra molto semplice era un convegno il convegno dell'organizzazione Mind and Life su un problema di filosofia scientifica what is life what is matter e noi discutavamo della natura della vita della materia il Dalai Lama interveniva dando il suo prima perché voleva imparare e dopo perché voleva dare anche il punto di vista buddista per scambiare tra scienza tra l'indagine scientifico sperimentale e l'indagine buddista che direi esperienziale piuttosto che sperimentale ma quello che è stato straordinario non era quel che si diceva ma quello che non era detto allora un evento veramente particolare in questo incontro è verso la fine dell'incontro quando il Dalai Lama ha cominciato a dire la sua la sua diciamo non so il voto del bodhisattva il voto del bodhisattva e ha detto ha detto quello quanto lo spazio durerà conoscete questo voto quanto lo spazio durerà voglio rimanere qua per aiutare tutti gli esseri e tutti erano pronti a piangere era veramente un momento molto e subito lui ha fatto un sorriso e ha detto e se voi scienziati avete ragione e non c'è rincarnazione va bene allora tra pochi anni mi riposo è molto bene così e dopo allora c'era questa tendenza a piangere e tutti ridevano e piangevano e era una cosa veramente straordinaria dove a cui partecipavo ma che era l'arte più straordinaria che ho mai visto di catturare l'emozione della gente ma senza senza volere essere un padrone di questa emozione il Dalaï Lama non voleva prenderla per lui non voleva che noi abbiamo delle emozioni per lui voleva liberarla voleva farla nascere e poi liberarla immediatamente e questo l'ho sentito molto forte e mi è cambiato la vita per molte settimane devo dire era un'impressione di totale fiducia nel mondo e nell'avvenire che mi era stata data da da quel momento molto eccezionale dove il Dalaï Lama allo stesso tempo suscita le cose più belle che abbiamo nel nostro cuore diciamo e allo stesso tempo lo libera non lo lascia come una cosa molto potente che ci ferma nella nostra vita ma lo lascia aperto e dunque si diventa completamente aperto dopo quello non lo lascia